Ciao a tutti sono Mattia bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di cam per il sistema digitale DJI. Vi mostro questa che è la Foxier Apollo versione standard e vi parlo però più in generale delle cam 60 fps in confronto con le cam 120 fps. Partiamo subito dal dire che il discorso degli fps è relativo come importanza infatti da 60 a 120 anche 60 potrebbe essere considerato una buona frequenza. Il discorso è che andando sulle cam da 60 fps aumenta la latenza e vi mostro subito nelle clip. Questa prima clip che state vedendo vedete in basso i dati in cui vi dice la latenza che è attorno ai 30 millisecondi e questa è proprio la cam di cui parliamo oggi che è la Apollo di Foxier mentre in questa clip invece vediamo una registrazione fatta sempre con il DVR dei DJI però la cam in questione è la Nebula Pro e vedete che si arriva vicini ai 30 millisecondi come latenza ma non li si supera quasi mai mentre con la cam di prima avete visto che andavamo sui 35 fino anche ai 40 millisecondi di latenza. Ovviamente per l'FPV la latenza è molto importante e soprattutto nel sistema DJI in cui quando si hanno tanti disturbi la latenza aumenta di molto fino ad avere anche un po il filmato a scatti partire da una latenza più bassa può aiutarvi e a volte salvarvi il modello quando state facendo proximity o cose del genere. Questa è la differenza numero uno e bisogna che decidiate se per voi va bene lo stesso avere questa piccola latenza in più e può essere una cosa che potete accettare tranquillamente se per esempio montate la cam su un aereo FPV in cui i tempi di risposta sono molto più lenti mentre su un quad soprattutto un racer lo sconsiglierei. L'altra differenza che potete vedere è che la cam 60 fps ripeto nel nostro caso la Foxier è una 16 noni quindi all'interno dei visori DJI andrà a riempire tutto lo schermo lo vedete in questa immagine e quindi avrete un senso di immersione un po più ampio mentre la cam 4 terzi vi lascia delle bande nere qui ai lati e ovviamente è un po un fattore negativo di queste che sono le cam secondo me migliori però va considerato il fatto che non è che l'immagine da 16 noni vi mostri di più lateralmente ma è l'immagine da 4 terzi che vi mostra di più fove verticale perciò soprattutto sui droni FPV in cui l'angolazione della cam è sempre inclinata rispetto al modello e può essere anche tanto inclinata rispetto al modello avere più fove verticale vi aiuta a gestire meglio la velocità del modello e a poter volare ad inclinazioni diverse mentre quando avete la cam 16 noni come questa il fove verticale si restringe e vi capita a volte che se andate troppo veloci vi rendete conto che state puntando sempre la cam sul terreno mentre se andate troppo lenti vi trovate a puntare sempre la cam al cielo con una cam 4 terzi questo effetto è molto meno marcato quindi questa è un'altra differenza infine le cam come questa da 60 fps che infine le cam come questa 60 fps non vi danno accesso a tutte le regolazioni disponibili nei goggles di DJI infatti non potete andare a modificare l'apparenza dell'immagine non potete andare a modificare il contrasto o il colore e vi dovete accontentare delle impostazioni che vi hanno dato di fabbrica fatto tutto questo discorso cerchiamo di capire se ha effettivamente senso prendere queste cam 60 fps come vi dicevo il loro unico vantaggio è che riempiono completamente lo schermo dei goggles e se vedete l'immagine l'immagine di questa cam è secondo me particolarmente bella quindi è anche godibile dal punto di vista dell'esplorazione se usate per esempio ripeto un aereo ma in tutto il resto le cam 120 fps 4 terzi sono assolutamente superiori c'è stato un periodo in cui le cam 120 fps non si trovavano quest'estate quindi hanno iniziato a vendere tante nebula non le pro ma quelle normali che ha stesse caratteristiche di questa però una qualità di immagine inferiore le nebule av2 poi sono arrivate le cam di foxer e anche le cam di run cam che vanno sempre a posizionarsi in questa categoria delle 60 fps e in quel momento aveva senso magari prendere questa foxer perché a livello di immagine secondo me tra le opzioni 60 fps è quella più bella ma ora che abbiamo a disposizione le cam 120 fps come la camera classica di dji oppure la nebula pro la nebula pro nano secondo me bisogna puntare su quelle considerando anche che il prezzo di questa cam ve lo mostro da banggood è di circa 53 euro in questo momento considerando di prendere il cavo da 8 centimetri e quindi non è una cam che costa molto meno rispetto ad una nebula pro spero che foxer ci proporrà anch'essa delle opzioni a 120 fps e sarò felice di provarle in tal caso ma per ora faccio fatica a consigliarvi questo tipo di cam soprattutto nel periodo attuale in cui ripeto c'è la disponibilità di cam migliori vi lascio linkati in descrizione sia questo modello se vi è incuriosito sia delle alternative che io preferirei e ora vi lascio una clip completa di un volo fatto con questa cam senza le indicazioni sotto per farvi rendere conto un po della qualità dell'immagine e vedrete che nella clip vado a puntare anche il sole e fare dei movimenti per cercare di mettere in crisi il dynamic range della cam e la cam si comporta molto bene da questo punto di vista e vi ripeto la qualità dell'immagine è molto buona il difetto rimane nelle opzioni disponibili all'interno dei DJI FPV come sempre vi invito ad iscrivervi al canale telegram che vi lascio in descrizione assieme ai link dei prodotti di cui ho parlato e nel canale telegram dovrete offerte sia su questa che su altre cam che usciranno o sono uscite negli ultimi giorni nella descrizione trovate anche il foglio degli sconti excel dove trovate vari codici per i vostri ordini dei principali store di FPV spero che questo video vi sia stato d'aiuto se restate iscrivetevi al canale lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per attenzione ciao grazie 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 grazie